Uno dei corridori più bravi, più generosi, se oggi mette la maglia è un piacere. L'anno scorso ha vinto il Giro della Polonia, però non è andato fortissimo, invece si è preparato molto bene quest'inverno e oggi ha attaccato, aveva attaccato anche ieri perché si era reso conto che era in grado di poter vincere questo treno triatico anche perché poteva contare su quattro compagni di squadra. È un appassionato di computer, ce l'ha sempre dietro, tutte le sere si fa dei comunicati stampa che mette nel suo sito internet, è veramente un grande esperto di internet e di computer, mentre Ballerini, anche lui come dicevo prima, non è ancora al 100% però sta affinando la forma. Mentre Epner è un tedesco, proviene dalla Germania dell'Est, è nato nella Germania dell'Est, è arrivato decimo a un Giro di Francia nel 1992, ha fatto anche un terzo, un Amsterdam Gold Race, un secondo a un Gran Premio di Francoforte, l'anno scorso ha vinto una tappa al Giro del Deltinato, è uno di quei compagni di squadra di Ulrich perché va forte soprattutto in salita alla Tour de France. Intanto ricordiamo che i battistrada hanno superato i 126 chilometri di fuga, fuga che è nata al 98esimo chilometro. A proposito di Ulrich, Ulrich che sta continuando la preparazione a Mallorca, Ulrich che ha dichiarato che sarà presente il 19 marzo a Novi Ligure per ricevere il premio Fausto Coppi messo in palio dalla Gazzetta dello Sport. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, proprio l'altro giorno Pevenage in diretta, ci ha detto che Lombardi è il genio tattico della formazione, tutte le tattiche della squadra sono organizzate, studiate, portate a termine da Lombardi. La situazione, ripetiamo, al termine di questa sesta tappa che ha sconvolto la classifica generale della 33esima edizione della Tirreno Adriatico, tappa dall'Abruzzo alle Marche, 224 chilometri, tappa iniziata con la sfortunata caduta del campione del mondo, Brochard, costretto a ritiro con l'attacco di Sorensen che ha poi scatenato la reazione di Richard, German, Durant, Jecker, Ballerini, Bontempi, Lombardi e Eppner, nove uomini al comando con Sironi, nove uomini al comando, ridotti poi a sei perché hanno perso contatto Durant, Bontempi e Sironi, poi Richard ha perso anche lui il contatto. Allora, a un chilometro dalla conclusione, testa a testa per lo sprint finale, per la vittoria parziale, tra lo svizzero Jecker in prima posizione, difende i colori della formazione francese della Festina, in seconda posizione Lombardi con la maglia bianca che difende invece i colori della tedesca Deutsche Telekom, hanno un vantaggio di 40 secondi nei confronti del terzetto che appunto vedete ora a un chilometro, terzetto che invece è interessato alla classifica generale. Domani una settima tappa, circuito di Civitanova Marche, la penultima tappa della Tirreno Adriatico, circuito di Civitanova Marche di 164 chilometri. Ma seguiamo questo sprint, ecco Jecker ha gettato il berrettino, si alza sui pedali, Lombardi non lo perde di vista, tra i due il più veloce è lo svizzero, per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, siamo allo sprint conclusivo con Lombardi al contrattacco, Lombardi sulla destra, Lombardi che non ha problemi, ha guardato, ha controllato l'avversario, non lo lascia neppure nella foto, come si dice in gergo, vince a braccia alzati, un'occhiatina per controllare il vantaggio e finalmente dopo aver lavorato tanto per far vincere Zabel riesce a ottenere un meritatissimo successo ed è la sua prima vittoria in questa stagione. Allora, adesso... Ha vinto anche l'anno scorso, una tappa proprio all'atrino Adriatico, in volata, quest'anno l'ha vinta in fuga, fatta inusuale per lui. Allora, quanti secondi ci sono ancora in palio? Un secondo per chi vince la volata. Solo e se lo aggiudica Ballerini davanti a Deppner e Jermann. Pertanto la nuova classifica generale, il leader è lo svizzero Rolf Jermann con un vantaggio di 4 secondi nei confronti di Ballerini e di 54 secondi nei confronti di Eppner. Noi naturalmente siamo in attesa di sentire Auro Bulbarelli per le interviste di Rito con il bravissimo Lombardi e penso, ecco qua, che la regia ce lo ripropone ancora a braccia alzate però per essere tranquillo ha dato un'occhiatina dietro. Lo sprint non presentava nessun problema, nessuna difficoltà per Lombardi e ve lo avevamo detto, infatti quando Lombardi si è alzato sui pedali non c'è stato più niente da fare per il volontaroso, per il tenace svizzero. Ecco l'occhiatina dietro, molto bello. Non si sa mai, anche perché delle volte i corridori hanno perso delle corse pensando di aver già vinto, però era nettamente più forte anche perché Jekker ha tirato gli ultimi chilometri quindi era più stanco. Penso che abbia adottato questa tattica perché tanto se fosse stato raggiunto sarebbe stato battuto dagli altri quindi adesso è meglio far secondo che avere un piazzamento peggiore mentre vediamo inquadrato Richard che sta per raggiungere il traguardo. Ma diamo subito la linea a Dauro Bulbarelli. Lombardi, finalmente dopo tanto lavoro per Zabel un successo personale, il primo della stagione. Ma oggi abbiamo cercato più che altro di fare la gara dura perché volevamo con Epner vedere se poteva fare qualcosa in classifica generale volevamo riscattare la vittoria non data ieri a Zabel ce l'abbiamo fatta. Mi dispiace anche per Jekker che negli ultimi 10 chilometri non gli ho mai fatto il cambio anche perché veramente era un po' in crisi, aveva un po' di cranti così però anche lui non ha dato più di tanto insomma te via abbastanza tranquilli anche perché dietro ormai si controllavano per la classifica. Hai vinto in volata ma di fatto si è trattata di una lunga fuga non è così frequente sentire una fuga di Lombardi? Ma sì sì, la fuga è stata forse una delle mie più lunghe perché abbiamo fatto più di 100 chilometri di fuga e i primi chilometri veramente siamo andati forti perché c'era Sorneson che era fuori dalla fuga c'era due o tre uomini di classifica e allora abbiamo veramente tirato forte. Anche l'anno scorso hai vinto una tappa alla Tirreno programmi per quest'anno? Ma niente di solito, adesso cercheremo di finire questo terreno qua facendo il meglio possibile e cercheremo di fare una buona Sanremo con il nostro leader Zabel Sì Che vorrebbe bissare? Ma ha una buona condizione adesso vedremo un po' come affronteranno le ultime salite dalla Sanremo ma sicuramente lui sarà col primo gruppo non so chi riuscirà a fare l'azione decisiva ma lui sicuro sarà col primo gruppo grazie a Lombardi vincitore qui a frontone a Tedesan ed ecco l'ordine d'arrivo Lombardi 5 ore 56 primi 52 secondi a 2 secondi Jecker a 38 secondi Ballerini Eppner tedesco Jerman svizzeramente il ritardo di Pascal Richard è stato cronometrato 2 primi 48 secondi tempo 5 ore 56 primi 52 secondi per coprire i 224 chilometri di questa sesta tappa Teramo frontone 224 chilometri la media 37 e 661 e adesso sentiamo il nuovo leader della classifica generale Jerman ci spostiamo altrimenti ci sono problemi con la radiocamera allora Jerman leader di questa tirreno adriatico si sono molto contento ma anche mia condizione è benissimo e sono felice adesso programmi adesso bisogna tenere la maglia fino alla fine hai solo pochi secondi di vantaggio su Ballerini si lui va molto forte ma per fortuna ho ancora 4 altri corridori del casino che mi aiutano Auro scusami sono felice e penso sono anche forte ma non siamo ancora arrivati un attimo che Cassani mi chiede una cosa dimmi Davide puoi chiedere per favore a Jerman perché non usa il casco lui che non fa un metro senza la protezione del casco mi chiedono per quale motivo non usi il casco perché ho perso non trovo neanche penso in ultimi dieci anni è la seconda volta che corro senza casco ma fino adesso mi è apporto grazie Auro perché proprio ieri avevamo fatto notare Auro proprio ieri avevamo fatto notare che era la prima volta che vedevamo Jerman senza casco la cosa ci aveva meravigliato e abbiamo ribadito la meraviglia per questa novità da parte di Jerman che ci sembrava fosse diventato improvvisamente troppo coraggioso adesso finalmente abbiamo capito il perché che c'è i ballerini? Sì io ho ballerini Franco secondo posto in classifica poi ieri è stata comunicata la formazione per la Sanremo della tua squadra e tu ci sei sì devo dire che dopo l'influenza che ho preso prima della Tirreno sto rimettendo a posto direi che sta arrivando una buona condizione per poter fare una buona Sanremo ecco comunque adesso pensiamo a questa Tirreno sono quattro secondi soli però è difficile quando ci sono così pochi secondi poter controbattere con un uomo come Jerman comunque ce la metteremo tutta noi della MAPEI per cercare di contrastarlo in qualsiasi modo la lunga fuga di oggi programmato ti sei inserito al momento? ma c'è stata la volata sul primo traguardo volante diciamo a funi secondi e dopo in quei su e giù sono andati via Lombardi, Eppner e Durand e da dietro niente sono partito in contropiede sono entrato dentro insieme a Jerman e poi abbiamo visto che c'era il buco e abbiamo girato tutti quindi non è stata programmata ma ci siamo trovati tutti lì e quindi abbiamo tirato il ritmo anche se mancava un po' troppi chilometri l'arrivo grazie a Ballerini, seconda classifica a Tetezzano a Auro scusa siamo in chiusura, riepilogo l'ordine d'arrivo della tappa vinto Lombardi, sesta della Tirreno Adriatico primo Lombardi, secondo Jekker poi Ballerini, Eppner, Jerman a 2.48 Richard tempo 5.56, 52, 37 di media per i 224 chilometri la classifica allo svizzero Jerman, leader con 4 secondi su Ballerini Eppner a 51 secondi il gruppo ancora 10 minuti di ritardo domani settima tappa circuito di Civitanova Marche 164 chilometri appuntamento come d'abitudine alle 16.15 sulla terza rete gentili signore e signori, buon poveriggio siamo qui al Grohman per la tanto attesa prima di castare il coraggioso ed ecco J.J. Fromberg il capo dell'organizzazione che ha strappato Rudy Montague al suo deserto per portarlo nella cavalleria degli Stati Uniti funzionerà in suo piano ed eccolo qui ecco che arriva Rudy Montague spero di intervistarlo Rudy! Rudy! Ehi Rudy! Vuoi concedere un momento ai radioascoltatori? oh beh, non fa niente, come non vissi ed è ora la volta di Wonton Ton la folla sta impattando letteralmente Curgo affatica a Essie Derruth con lui e lo guida amorevolmente tra i suoi fans una ragazza fortunata Essie Derruth dopo anni di ospira al dettramento dei cani giunge ora finalmente a successo con Casser il coraggioso e invece te lo meriteresti hai perduto il cavallo Rudy? perché non chiesti di riprenderlo e sparisti? ma non è finita la cavalleria! ma lei i cani dei due! io me ne vado! Si si! Menomale! Te lo merita! Oh ma basta, basta! Non penso più! Basta! 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 Lei è licenziato come regista. Lei ha finito la sua carriera. Lei può tornare nel deserto. Tu puoi andare al diavolo. E te ti disconosco come fratello. Ma papà cosa dirà? Non voglio sapere quello che dirà papà. Io vi faccio causa! Non potete venire qui alle 8 del mattino e sequestrarmi i mobili come se niente fosse! Pagli debiti allora! Grayson! Mettetemi giù! Sono un'attrice del cinema! Ehi papà! Sono un'attrice dello schermo! Ma è una grande stella! Io sono una grande stella, capito? E posso farvi licenziare tutti quanti! Una grande stella! Non me lo dica amico, ho visto il film! Cosa si deve vedere? No! Pagli amiciare e a muoversi! Perciò! Vai! che non diresti di spostarsi sul classic tu, fluffy e wonton ton nei tre moschettieri oppure Romeo e Giulietta vedo che la fame ti sta dando alla testa ehi, questo potrebbe essere quello che ci serve cerchiamci attrici per grande produzione hollywoodiana io, io credo che stia andando bene, non vi sembra? rovinato, sono rovinato assolutamente rovinato hai scritto un soggetto meraviglioso è terribile, con il cinema ho chiuso sei un grandissimo regista devo cambiare mestiere ehi, metta bene a fuoco si, si, ho chiuso con il cinema è una cosa facilissima tu chiudi gli occhi e immagini che lui sia alto, bruno, altante può darsi che sia veramente alto, bruno, altante allora io apri gli occhi e cerchi di divertirti anche tu siamo fortunati e coraggio trovaci tu ciao, bel ragazzone ti vuoi divertire un po'? mi chiesti strinta? no, non è questo è che io, vede, sono una prostituta cosa? sono una prostituta cosa? sono una prostituta sono una prostituta